C'è il raggio di Gesù Cristo C'è il raggio di Gesù Cristo Cazzo Finalmente Finalmente No vabbè non ci credo Mamma mia finalmente Ti giuro stavo perdendo le speranze Mamma mia Finalmente me la sentivo questa volta Avevo un minimo di presentimento Non dico molto un minimo Finalmente Finalmente può essere mio Sì Spendi Spendi Vieni da mamma Oh yes Oh yes E' un dilucco E' un dilucco E' là Verso nord Prima vittima Prima vittima Senti più skillata qualcunai Martini Mamma mia Sono un'altra persona Ti giuro Ti ho sempre detto Con l'Ellum si bloccano le skill Che non avevi Mi***o è vero Sento passi Da me 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 Ho sempre incaccato 30 con lo top Mi giro una cella Da me c'è uno Vado io E' un hit E' un hit E' un hit C'è l'altro dentro Il mio range è uguale E' proprio la raid Nenico proprio qui Non in soccorso Ricarico Venite qui Nenico proprio qui Nenico proprio qui Non battuto Parlo Ricarico 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 Mia Appugna appugna DG 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 L'ultimo è caduto appeso morto Literalmente Peccato l'avevo lasciato a one shot la mia Peccato che non ti da assist Io ho zero colpi di zero colpi No 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 il primo l'assist l'ho preso Però gli altri no ovviamente Allora Sto guarendo Tengo gli occhi aperti Manca la cazzo della raid Un secondo mi sto curando Oh davanti a me Rosso Rosso rossissimo Non è da nostro lato Non ci credo Anche a sinistra Qua Un team che vada Va via un team Qua uno Un nemico laggiù Possiamo guardarlo Eh vieta E' andato un fade Caccato quasi qua sotto Noccato uno dietro Finito Ricarico La break qua da me Ok Noccato uno E' uno E' uno E' uno 30 rosso Ricarico Oh man Penso pure l'assist L'ancora affetavano perchè ce n'era uno knockato Uno gliel'ho finito E' una lifeline c'era un bloo di a terra Andiamo alla piglia Da me E' uno shot ve lo giuro Ok questo Ok questo 91 91 Graccato uno Fatto uno Cusciate 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 14 viola quello che va con la zip Parte 7 viola Vado aggro Hanno preso una macchina Graccato Graccato 12 12 rosso No vero 2 2 Eh niente E' il fat da qualche parte qua eh Se volete luttare tranquillamente Se volete luttare tranquillamente Tatti Sto controllando i Tintur Qua seconda è lo scan Qua dietro Qua dietro è l'assistente Altrabber Rock altrabber Graccato Graccato Mi butto delle nate Graccato Kollegin Un fatto Abba Ho preso il banner Sicuramente l'anello è vicino un altro minuto si è qua a sinistra non c'è l'acqua ecco eccolo l'unico posto per restare però è sotto lui ma dubito che scenda ma infatti risultiamo questi che fightano li prendiamo si sono appena uccisi 30 viola pat una è data la macchina ho un arco è data la macchina c'è 120 euro sulla macchina ok vai vai sta scappando è l'ultimo rimasto quello si era lì dentro uno close da me 100 dorata uno il cuore qua per me atlas l'avrete rossa devo beccare ragazzi di zona di zona di zona il fight è da dietro uno è un solo il pat si è il pat sto per venire da voi è lì dietro può venire il resto attack 5 il resto io non puoi restare e ricarico gli scuri faccio questi fiume ne vado via si guarda me vado a vedere se riesce può perdere il pigliare il portale lo piglio lo piglio lo piglio vai di sotto resta possiamo farcela il tiro è che già faccio si vuoi un phoenix hanno un knock andiamo 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 è due cuarmi ok vai sta restando la life uno è one rosso rosso praticamente è noccato stai bruciando io uno è lì a destra punto uno è one 30 rosso 25 oro knockato a posto a posto a posto a posto gg gg let's go gg first game pg gg raga primo game primo win let's fucking go siete i campioni apex ma quindi quando mi resti con il raggio diventano visibili entrambi si tutti ah io questa cosa non avevo idea ma proprio zero idea giuro si vedono solamente un pochino le è il questo un pochino le non avevo idea